Una tournée di successo, quella dell'Avaro di Molière, come confermato anche dall'aggradimento del pubblico al teatro dei vigilanti Renato Cioni di Portoferraio. L'opera, nell'adattamento di Hugo Chiti, in questo caso anche regista, contiene una serie di rivisitazioni che la rendono più attuale con i tempi. In scena, nei panni dell'Avaro Arpagone, Alessandro Benvenuti. Per l'attore toscano è un ritorno all'elba, dopo le riprese della fortunata serie tv in da Suscai, I delitti del Barlume, ispirata dai romanzi di Marco Malvaldi. Sono emozionato, nel senso che ormai l'elba è un po' come una seconda casa, per cui non ci si viene più così soltanto a cuor leggero pensando che sia una tappa deletante, ma ci si viene, come dire, oggi durante il viaggio mi sembrava di fare le prove generali di quando ritorneremo a fine maggio per fare le altre due puntate dei delitti del Barlume, poi ho rincontrato subito un sacco di gente che ha a che fare anche con quel film lì, come comparsi, amici di comparsi dell'elbane, per cui insomma è molto affettuosa come cosa. Benvenuti, racconta anche quali sono i suoi ricordi dell'elba. È stata una bella sorpresa conoscere il territorio, le persone soprattutto del territorio. Mi sembra ancora un posto molto vivibile, mi ricordo un po' l'Italia degli anni 60, io sono una persona di paese e quindi mi ricordo un po' il mio paese. Al termine della prima stagione dell'Avaro, Benvenuti proseguirà con le tournée di altri suoi tre spettacoli. Tornerà all'elba alla fine di maggio per le riprese degli ultimi due episodi della fortunata serie di Sky.